in questo video vi racconterò la storia del kosovo partendo dal principio cioè dagli antenati dei kosovari i dardani prima di tutto devo fare una precisazione fino a pochi secoli fa dardania era il nome utilizzato per rappresentare il kosovo e i kosovari erano chiamati dardani quindi userò questi termini molto spesso nel corso del video la dardania come territorio prese questo nome nel 500 avanti cristo cioè 2500 anni fa e si estendeva in una zona più grande del kosovo odierno a nord andava fino alla città di nish nell'attuale serbia ea sud si estendeva fino all'odierna macedonia i dardani erano fratelli di sangue con gli illiri perché erano la stessa razza la parola dardania deriva dalla parola albanese dard che significa pera un albero da frutto molto diffuso e per cui era famosa quella zona la dardania era famosa e conosciuta oltre che per il frutto della pera anche per la terra molto buona da coltivare e anche perché si lavorava l'oro la civiltà della dardania era una società fatta da schiavi e padroni ogni padrone poteva avere più di mille schiavi e questi schiavi in tempo di guerra dovevano combattere per difendere i padroni e la dardania nel corso dei secoli da dardania fece molte guerre contro i macedoni perché voleva ampliare i suoi territori e fece diverse guerre anche contro i romani ma nell'anno 100 avanti cristo la dardania divenne parte dell'impero romano e ci rimase per diversi secoli i dardani dopo pochi secoli sotto l'impero romano furono convertiti da pagani a cristiani nel 600 dopo cristo arrivarono gli slavi provenienti dalla russia nei balcani e si insediarono in molti territori vicino agli illiri e ai dardani nel 900 dopo cristo la dardania divenne parte dell'impero bulgaro mentre nel 1200 dopo cristo divenne parte dell'impero serbo che per soli cento anni ebbe questa zona sotto il suo dominio i serbi si erano convertiti al cristianesimo ortodosso nell'ottocento dopo cristo quindi dopo che erano venuti nei balcani ed ebbero l'idea di costruire nel territorio della dardania un sacco di chiese ortodosse con scritture slave però la dardania era abitata sempre da dardani e non da serbi oggi i serbi sfruttano questi monumenti come pretesto per rivendicare il kosovo nel 1389 ci fu una battaglia importante in kosovo in cui albanesi serbi ungheresi e bulgari si unirono a un imperatore serbo e combatterono i turchi ma furono sconfitti anche questa battaglia per i serbi di oggi è un motivo secondo loro per cui il kosovo appartiene alla serbia visto che era un imperatore serbo al comando della battaglia che fu persa dopo la sconfitta subita per mano dei turchi la regione del kosovo passò in mano all'impero ottomano e nei 500 anni di dominio da parte dei turchi i dardani furono convertiti dal cristianesimo all'islam obbligatoriamente così come successe alla bosnia e all'albania numerose furono le battaglie condotte dai dardani contro gli ottomani per diventare indipendenti ma l'esercito turco era molto più numeroso nel 1870 l'impero turco iniziò la sua disfatta e perse molti territori nei balcani intanto anche la dardania si incominciava a chiamare kosovo e i dardani iniziavano a chiamarsi kossovari già non si usavano più i nomi antichi dei territori anche l'illiria cambiò il nome prima in arberia e infine in albania così com'è conosciuta oggi nel 1877 ci fu una guerra russo turca e i serbi approfittando di questo momento di debolezza dei turchi invasero nuovamente il territorio del kosovo e deportarono 160.000 kossovari dalla loro terra numero altissimo per l'epoca e lo fecero perché i serbi volevano che questo territorio fosse slavizzato con il trattato di santo stefano nel 1878 il territorio del kosovo passò dalla turchia alla serbia ingiustamente però alcuni anni dopo si formò in kosovo la lega di prizren una lega formata da albanesi intenta a riunire tutti gli albanesi dei balcani in un unico stato e si formò anche un governo provvisorio che fu il primo governo albanese governo che non fu accettato dall'europa dalla turchia e soprattutto dalla serbia dell'epoca e fu bloccato con l'esercito nel 1912 l'albania dichiarò l'indipendenza e i politici kossovari votarono l'unione del kosovo all'albania ma il trattato di londra con influenza soprattutto della russia decise di accettare l'indipendenza dell'albania per solo un terzo dell'intero territorio abitato dagli albanesi vi ricordo che la russia ha sempre sostenuto i serbi perché russi e serbi sono la stessa razza slava i territori albanesi furono regalati al montenegro alla grecia e alla serbia che iniziarono una politica anti albanese perché volevano eliminare le tracce delle popolazioni albanesi autoctone in questi territori molti conflitti etnici nei balcani sono stati causati dal trattato di londra che non ha diviso le nazioni balcaniche in base etnica e non ha dato precedenza ai popoli autoctoni ma ha favorito gli slavi che erano popolazioni emigrate nei balcani e ha diviso gli albenesi in cinque stati balcanici dal 1918 al 1990 il kosovo fu parte della jugoslavia una nazione governata dai serbi di cui facevano parte diverse etnie ma la jugoslavia piano piano si disgregò e si divise in sei stati per l'incapacità dei serbi di gestire una nazione così grande con diverse etnie e religioni allora anche il kosovo pretese di separarsi dalla serbia come avevano fatto gli altri stati anche perché il kosovo era abitato da albanesi che non hanno mai avuto niente in comune con i serbi oltretutto gli albanesi del kosovo erano autoctoni e i serbi no i serbi purtroppo non accettarono che il kosovo si volesse separare perché a detta loro il kosovo era il cuore della serbia e gli albanesi non erano autoctoni ma erano emigrati dei balcani mentre i serbi erano autoctoni e fecero di tutto addirittura bruciarono tantissimi artefatti storici kossovari pur di cancellare la storia passata anche se gli archivi del vaticano e dell'inghilterra hanno tutte le documentazioni e ogni serbo può andarle a leggere quando vuole per rendersi conto di chi è autoctono nei balcani i serbi non contenti di tutto questo mandarono l'esercito in kosovo e iniziarono un genocidio contro gli albanesi e massacri vari ma per fortuna intervenne la nato che decise di bombardare la serbia e in pochi giorni la serbia si dovette arrendere da quel momento la serbia era come se avesse perso il kosovo visto che si era arresa alla nato e infatti solo pochi anni dopo nel 2008 il kosovo dichiarò l'indipendenza e venne riconosciuto dalla maggioranza degli stati mondiali dalla maggioranza degli stati d'europa e soprattutto dall'america oggi la serbia ancora non riconosce l'indipendenza del kosovo ma lo farà molto presto perché gli verrà imposto se vuole la pace mentre un conflitto tra serbi e albanesi porterebbe di sicuro alla terza guerra mondiale nei balcani ci sono alcuni paesi che provano ancora molto rancore nei confronti dei serbi per i crimini di guerra commessi contro gli albanesi i croati e i bosniaci anche per il fatto che la serbia non si è mai pentita non ha mai chiesto scusa e non ha mai pagato per quello che ha fatto i serbi devono ancora pagare per i crimini macabri commessi in kosovo in bosnia e in croazia e la cosa strana è che i serbi si proclamano ortodossi fedelissimi mentre non hanno nulla di cristiano visto le crudeltà e le guerre che hanno commesso il video termina qui mi auguro sinceramente che i serbi mettano la testa a posto e si orientino verso l'europa e non verso i russi che sperano in un conflitto nei balcani se vi è piaciuto il video vi invito a condividerlo e a lasciare un commento un saluto a tutti voi